Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari 330 P4, l'auto da corsa ritenuta da molti la più bella di sempre. La macchina che ha vinto le 24 ore di Daytona in casa Ford con il pilota, aspettate che leggo il nome, Lorenzo Bandini, mi ricordavo il cognome ma non il nome, e Chris Amon, classificatisi appunto al primo posto. La macchina in scala 1 a 8, l'edizione Centauria, 110 le uscite previste, scusatemi per il ritardo ma chi mi segue sa la motivazione per la quale sono ancora all'uscita numero 9 mentre l'edicola è già all'uscita numero 16 e quindi non vi ripeterò di nuovo tutto. All'interno trovo la coppa dell'olio, pompa di iniezione e tubo iniettori. Cinque serie di viti, le fasi di montaggio non sono affatto complicate, bisogna soltanto stare attenti alle posizioni di questi tre pezzi qua, questi due pezzi qua. E poi c'è un errore dove qui non va la vite ABM ma va la vite SM. Però insomma è un errore non gravissimo perché ve ne accorgete subito. La vite ABM è lunga e quindi non può assolutamente riuscire ad entrare in tutta la lunghezza del foro perché è più corto rispetto appunto alla vite e la vite SM, che è quella corretta, è questa qui ma la vedremo dopo. Infatti il servizio editoriale aveva giustamente fotografato la vite piccola, eccola qui, però può succedere con tutti questi nomi, codici, nessun problema. Questi sono errori che si scoprono subito e ovviamente non sono voluti. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Ciao ragazzi, ringrazio tutti i miei abbonati e chi mi ha dato il super grazie perché sapete che sono partiti gli abbonamenti. Nell'uscita numero 47 dell'Audi 4 spiego le differenze tra i 5 abbonamenti. L'ho già fatto in altri video, però insomma se desiderate abbonarvi andate comunque a vedere quel video perché spiego delle cose che possono interessarvi per poter scegliere poi il tipo di abbonamento. Alle altre persone, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente. Grazie. Qui abbiamo la coppa dell'olio che possiamo tranquillamente riporre perché non la useremo in questo montaggio così come anche l'asta di rinvio comando pompa iniezione questa che sicuramente poi andrà messa qui ma non adesso. Bene. All'interno questo tubicino trasparente per gli iniettori, tutti i vari componenti che formano la pompa iniezione con questi che sono gli ugelli poi che nebulizzano la benzina all'interno qui dell'iniezione. Serie di viti ce n'è cinque, tre sono da avvitare nel metallo e sono sm, am, abm e mi raccomando vi consiglio di usare un lubrificante per crearvi i filetti nel metallo. Potete usare qualsiasi tipo di lubrificante. E qui abbiamo due serie di viti destinati invece alla plastica MP e AP e qui ricordatevelo, assolutamente nessun tipo di lubrificante. E poi abbiamo questa che è in metallo, eccola qui, che è chiamata piastrina. Volevo solo vedere se in questo montaggio ci servirà. Sì, ci servirà. Andremo a montarla qui, su questo corpo dell'iniezione. Bene, cosa ci serve anche per poter procedere al montaggio? Ci serve questo, questo, botterino d'avviamento, queste due parti qui, pompa dell'acqua, testata punterie, una lima al bisogno. Un cacciavite a stella normale e uno con la punta più piccola. Prima cosa, con due viti AM sono andato a crearmi i filetti qui. metto questo. Io prima di farlo avevo delle imperfezioni e sono andato a consumarmi i perni sopra per regolarizzare la battuta. attenzione quando si fa questo lavoro, perché qui dietro abbiamo un tubo, questo, che deve entrare qui nel foro. Delicatamente, così, posso avvitare. inserisco bene questo. Perfetto. A questo punto, rendo questo. facendo sempre attenzione a questo bellissimo particolare, perché è molto delicato. Io ho già messo due viti ABM, sempre con lubrificante. attenzione a questo. Allora. 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 Avete visto con quale semplicità una volta che vi siete creati i filetti avitate in sicurezza senza brutte sorprese quali la rottura della dita all'interno. Qui è tutto a posto. Bene. Adesso prendo il motorino di avviamento con una vite AP. Sono già andato a crearmi il filetto qui. Prendo la testata destra. Il blocco motore destro, chiedo scusa. Qui ho un perno. Le viti ovviamente vanno verso il blocco motore. Ecco qui. E avvito. Sento il mio gatto tigrato europeo Michelangelo dietro la mia schiena. Ringrazio tutte le persone che me lo salutano. Allora, così è corretto. Volevo solo vedere come mai è così storto. E' mai fatto proprio così sotto. Quelle due parti non vanno consumate. Ecco. Anche questo è stato fatto. Adesso, guardate, prendo una vite MP con i cacciavite con la punta più piccola. Me la sono andata ad avvitare qui e mi sono creato il filetto. Adesso la svito e mi metto quella staffa piccolina. Questa. Scusate un attimo. Cosa fai Michelangelo? Lascia stare. Quanto lo amo il mio gattino. La staffa è questa. E' metallo. Ovviamente sfrutto il buco, il foro più largo, perché nell'altro non potrebbe assolutamente entrare. Così. Bene. La metto inclinata rispetto a quest'asse verso destra, come in foto. Adesso, guardate, prendo questo, questo pezzo, questo e questo. Dietro sono andato già a mettermi una vite AP. Non vi potete assolutamente sbagliare, dovete soltanto guardare bene le immagini. Comunque, vi faccio vedere. Si prende prima quello con tre perni, questo ne ha quattro, e come lo andiamo a mettere? Guardate. Vedete che qua i perni sono a filo qua dietro, mentre qui c'è un gradino? Bene. Questo lo andiamo a mettere proprio così. Affinché ci sia questo spazio tra i perni e questo bordo. L'altro, di conseguenza, invece, lo mettiamo al contrario. Cioè così. Qui c'è una parte che non mi piace, però se vado a consumarla sotto la plastica nera. Lasciamola così. Forse non si vede. Guardate. Guardate bene la posizione che è sì obbligata da questo e dallo scasso che avete. Però, vedete? Le due parti a filo, i perni qua, sono a filo di questa battuta e qui sono a filo. Devono andare così. Ok? Fatto questo, prendo questo pezzo qui, però qua non va bene assolutamente, lo devo togliere. questo tanto va in battuta e non si vede. così. Questo lo inseriamo semplicemente in questo modo. Ecco. Dietro andiamo a mettere la staffa, questa qui. Attenzione ai perni che sono molto delicati. e questo è già working. E questo... è in teore di tullervi. Ecco. 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 ecco il mio michelangelo voi non l'avete visto ma è saltato nel cubo box non mi sgnaccare niente amore mio stai fermo ecco qua no no michelangelo dai a questo punto prendo questo pezzo piccolo no guardate come si è incastrato all'interno ecco amore devi spostarti da qui però così dai mettiti qui vuoi andare via dai basta che ti decidi già i miei video sono quelli che sono poi se mi fai pure distrarre siamo rovinati allora questo non so se andrò puoi incollarlo adesso vediamo ma credo di sì questo pezzo alla mezzaluna non vi potete sbagliare siete obbligati cosa stai facendo amore ascoltami mettiti qui dai stai buono lì allora ho inserito questo però è entrato molto facilmente considerando che probabilmente dovremmo mettere dei tubi vi consiglio assolutamente di incollarvelo a questo punto ci rimane da fare questo questi due pezzi qui inseriamo così attenzione non tirate giù qui premete sui perni così questo non serve incollarlo perché ci sarà questo che però tiene bloccato e adesso vado a mettere questo e basta così guardate faccio inserire un attimo che metto a fuoco ecco devo far inserire questo perno qui possibilmente senza fare danno e senza rompere questi perni sotto ecco così è perfetto questo non si muove più ma ricordatevi di incollare di questa parte piccola adesso prendo questa questa è la vite sm sulle istruzioni troverete invece scritto abm ma ripeto può succedere di sbagliarsi ma mai e poi mai si riuscirebbe a mettere questa vite lunga lo mettete così la mettete così la pompa iniezione perfetto perfetto balla balla perché devo ancora stringere la vite ap dietro questa ok va bene così a questo punto prendo il coperchio delle valvole eccolo qui ho già avvitato due viti ap qui controllatevi che non vi siano imperfezioni qua ad esempio ne ho una perché tutto quello che non è perfettamente in piano vi crea uno spessore non vi permette in questo caso al coperchio delle punterie di aderire perfettamente al blocco motore sono accortezze che fanno la differenza faccio scivolare questo così delicatamente fermo amore due vite ap e ho finito il montaggio e vado a prepararmi subito l'uscita numero 10 ho tutte le uscite fino alla numero 16 vi ho spiegato tutto anche lì nei video che ho fatto precedenti a questo vi chiedo un favore se possibile guardate i video perché mi fate delle domande le quali risposte sono tutte contenute già nei video e vi garantisco che con 5000 iscritti io rispondo mediamente dai 100 ai 200 messaggi alla settimana tra vocali e scritti mandatemi i vocali non mi mandate gli iscritti se potete perché è più facile per me leggerli mentre continuo a fare il lavoro che sto facendo quindi ecco seguiteli i video se avete piacere altrimenti è inutile che mi fate domande molti mi hanno chiesto come mai non facessi più i video della ferrari ve l'ho spiegato in diversi video evidentemente non li avete visti questo è un favore che vi chiedo perché mi aiutate ad essere occupato meno nelle cose che in realtà sono già state spiegate grazie a tutti del vostro tempo questo è il risultato fino al montaggio numero 9 bellissimo un abbraccio a voi e un saluto un saluto a tutti i vostri cari più cari e se avete piacere di aiutarmi ulteriormente a parte gli abbonamenti dove ci saranno sempre più cose importanti ve lo garantisco e adesso sono all'inizio però pian piano vedrete e poi di condividere i miei video nei gruppi dedicati o su facebook l'altra settimana grazie a voi ci sono state 76 condivisioni grazie a tutti ragazzi un abbraccio